Bentornati a Radio Design dopo le fantastiche pausa natalizie. Abbiamo anche un albero di Natale per chi ci vede qui in vetrino. Fallo vedere Paolo. Questa diretta è dall'Antartico perché ci sono circa 3 gradi qui nel nostro studio. Bellissimo. Ciao Paolo. Un freddo d'orso i polari. È bellissimo essere di nuovo qui con te. Questo dopo feste cerchiamo di smaltirlo subito parlando di roba seria. Esatto, intanto è una vergogna perché io che sono nato a 900 millimetri, sono bardato. Lui che è nato ad Arezzo, sei nato ad Arezzo giusto? Sì. E a Retino, lui non c'è niente, va in giro così. Questa volta è speso male. Perché lui beve e quindi non ha bisogno. Solo io, eh? Allora, partiamo con questa puntata particolare perché se non l'avete visto vi consigliamo di vederlo. Anche qui Paolo non l'ha ancora vista. Non l'ho ancora visto. Ma la tua è una scelta ponderata, immagino. Sì, mi sto difendendo dai spoiler in tutti i modi e da abbonato Netflix sto facendo un'enorme fatica. Infatti ho deciso di non vederlo prima di andare in onda e domani non mancherò l'appuntamento. Stiamo parlando ovviamente di... Di Bandlesnatch e finisce che lui muore. Spoiler subito. Mi dispiace Paolo ma lui muore alla fine. No, sto scherzando. La cosa bella di questa puntata di Black Mirror, perché la serie è Black Mirror, si chiama Bandlesnatch, come diceva Paolo, è che ci sono più finali. Quindi te ne ho spoilerato. Può finire come il cazzo vi pare. Esatto. Perché parliamo di Bandlesnatch? Perché tutto si ricollega tantissimo alle nostre tematiche che riguardano il marketing. Intanto provo a spiegare un attimino questa puntata speciale che ha fatto tantissimo rumore in rete. E' diventato un must per tutti quanti vedere questa puntata perché è la prima puntata di Black Mirror dove sostanzialmente chi guarda la puntata può scegliere cosa fa Steve, il protagonista. No spoiler, no spoiler, no spoiler. Credo si chiami Steve, se non vorrei sbagliare. Ed è una cosa particolare perché per la prima volta su questa piattaforma Netflix era possibile appunto scegliere più volte durante la puntata. Da un punto di vista, giusto per fare un cappello iniziale, vi suggerisco di andare a guardare la puntata che ha dedicato lo youtuber Uesa, che abbiamo avuto qui anche ospite, che ha fatto una bellissima analisi che dura una bella mezz'oretta con tantissimi richiami dell'ambito filmico, quindi sia della teoria, tecnica, richiami che riguardano, ci sono continui richiami anche cinematografici nella puntata, diversi autori che hanno abbracciato questa gamification applicata ai libri e poi traslata nel mondo filmico appunto su film, poi ce ne parlerà anche Paolo e serie tv, è un bellissimo esperimento, vi consiglio di vederlo, Paolo ti consiglio di vederlo. Però partiamo subito dicendo cosa, che questa puntata è molto interessante per noi perché c'è tutto un discorso che è estremamente interessante per il mondo del marketing, giusto Paolo? Sì, è molto interessante per vari motivi e li andremo a vedere poi nel dettaglio. Tra tutti c'è quello legato direttamente al product placement e per chi non lo sapesse si tratta di quelle strategie atte a posizionare un prodotto all'interno di un contenuto dedicato all'intrattenimento a fini pubblicitari. Sembra la cosa più banale del mondo ma non stiamo parlando di semplice pubblicità, stiamo parlando dell'inserimento di un prodotto commerciale all'interno di un prodotto culturale, quindi un'azione piuttosto naturale, piuttosto morbida però che ottiene dei grandi risultati. Vi basti pensare a James Bond, pensi al Martini, pensi all'Aston Martin, queste sono cose che sembrano ovvie ma sono dei veri e propri prodotti culturali e per arrivare a questo fine i brand sono disposti a investire molto e a proposito di Bendersnatch, l'ultimo episodio di Black Mirror, c'è Kellogg's che si è inserita con grande forza. Esatto, infatti proprio nelle prissime, posso dire io che l'ho visto, nelle primissime scene a un certo punto... Non mi tappo le orecchie perché la so. Nelle prime puntate, nei primissimi momenti c'è proprio colui che guarda la puntata, può far scegliere a Steve, il protagonista, come fare la colazione, quindi quale prodotto scegliere. Questa cosa così banale invece ha un potenziale gigantesco dal punto di vista del marketing, non solo perché parliamo di Netflix che è una piattaforma che ha quasi 200 milioni di iscritti in tutto il mondo, quindi potete immaginare già la Kellogg's avrà sborsato un pochino di sorridere. Fior, 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 fior. Non ci credo che l'abbiano messa lì per caso, però secondo me questo è proprio un primo esperimento per capire poi come introdurre quello che, come dice il sito web Marketing Dive, che è bellissimo, ve lo consiglio sempre, quello che viene chiamato programmatic product placement, quindi non solo un product placement tradizionale, come quello che, non so se vi ricordate, magari se voi siete amanti di questi film anni 70, un pochino porno, che sicuramente Paolo ha visto. Sono pronto. Quelli dove c'erano Banfi e dove c'era sempre quei 4 o 5 product placement classici, bastini, tassoni. Col prodotto tra l'altro a favore di camera, sempre, in maniera anche abbastanza smaccata, un po' trash, però ci piace moltissimo. Ecco, diciamo che il paradigma si sposta da quel product placement tradizionale che citavi tu a questo programmatic product placement, che è la novità, cioè riuscire a piazzare il prodotto in base alle esigenze dei fruitori di un contenuto che possa essere sia filmico, ma anche un contenuto tradizionale web. Spieghiamola meglio questa cosa, perché tu hai letto un articolo interessante su questo. Qui bisogna precisare una caratteristica del marketing digitale, il marketing di questa epoca, che può apparire banale a detti ai lavori, e ci scusiamo, però è sempre bene ripetere. Il marketing digitale è caratterizzato dalla possibilità di enumerare tutte le variabili, in output e in input. Quindi posso enumerare quello che io produco, ma soprattutto posso enumerare il feedback che ottengo dal mercato, quindi i comportamenti di acquisto, i comportamenti legati al lifestyle, ai gusti, all'orientamento. Questo è fondamentale, perché se pensiamo a un colosso come Netflix, dovremmo renderci conto che i dati che raccoglie Netflix, sono superiori rispetto ai dati che versa nelle nostre case, perché Netflix sa molto di come noi scegliamo, cosa noi scegliamo, il tempo che impieghiamo per sceglierlo, con chi siamo, quale profilo viene utilizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il marketing e il product placement, nello specifico, diventa programmatico, perché si può colpire un target, andarlo a attivare in maniera, per l'appunto, programmatica. Quindi non si va più a spot. Vi ho fatto prima l'esempio di James Bond col suo Martini. In quel caso, ovviamente, parliamo di un esempio epico, storico, ma si va a colpire su uno spot ad hoc. In questo caso, invece, può essere continuativo. Può essere continuativo il sollecitamento per il target selezionato, può essere scientifico e può essere misurabile, soprattutto. Quindi, parliamo di una svolta copernicana in termini di marketing visivo. Sì, proviamo semplicemente a immaginare quanti dati, in quanti dati si ha un possesso, non solo le piattaforme classiche come appunto Facebook, Amazon, comportamenti di acquisto. Ricordiamo, Amazon ha una piattaforma video, Prime, quindi probabilmente, presumibilmente, anche loro arriveranno... Io ho attivato. Esatto, anche io. Probabilmente anche loro arriveranno, prima o poi, a fare contenuti di questo genere, perché la gamification, in questo ambito, è sostanzialmente una novità. In realtà, ha una tradizione lunghissima. Tu mi citavi un film, raccontiamolo. La gamification ha una tradizione lunghissima, non solo per quanto riguarda il film, e lì ci torneremo, però riguarda anche i contenuti editoriali per il pubblico più giovane. Spieghiamo intanto gamification per i più profani, cosa vuol dire? Gamification vuol dire coinvolgere l'utente in un'attività ludica, fondamentalmente, volta però a crescere la brand awareness o comunque a facilitare le conversioni. Detto proprio terra-terra, aiuta a sbigliettare, a fare soldi. Perché mentre tu ti diverti, io ti vendo il mio prodotto. Detta così, sembra semplice, ma in realtà è molto complicato coinvolgere un utente, soprattutto coinvolgere un utente del 2018. È sempre più complicato. Certo. Ne parlavamo prima, io e Nicola, di quanti ragazzi oggi siano sollecitati, sottoposti a milioni di stimoli, hanno tutta la conoscenza in tasca. Stiamo facendo i vecchi ancora noto. Siamo anziani, dobbiamo fare... Da morire inside. Mamma mia. Però, proprio per questo, proprio perché lo spazio legato all'intrattenimento e ai contenuti multimediali è saturo, bisogna divertire, intrattenere. Ecco perché il tempo d'attenzione che noi riusciamo a carpire del nostro utente, del nostro potenziale cliente, può diventare determinante nelle politiche di marketing di un dato brand. Quindi, non è solo un dettaglio, non ci si fa solo bella figura. Questo lo diciamo a tutti i clienti. Ci facciamo belli, certo. Non ci facciamo solo belli, esatto. Ma serve a vendere. È fondamentale creare coinvolgimento. E la gamification, quindi portare il contenuto commerciale in una dimensione ludica di divertimento, serve a vendere. È fondamentale. Certo. Facciamo anche degli esempi classici, giusto per far capire la gamification quanto sia presente poi nella fruizione quotidiana di tutte le piattaforme. Cito il classico Waze, che è sostanzialmente un'app israeliana che poi è stata acquisita da Google, che è sostanzialmente una sorta di Google Maps, che però ha all'interno tutto un sistema di gamification che ti spinge a acquisire punti, dicendo, per esempio, se c'è del traffico in un determinato punto. Se, appunto, più chilometri fai, più ottieni dei punti che puoi sfruttare per fare benzina. Quindi qui la gamification, come diceva Paolo, porta alla conversione. Cioè, spingere, che non so, si fa un accordo con la S, si dice S, ti piace questa cosa qui. Le persone acquisiscono dei punti e vengono da te a spendere benzina. Pagare. E sono big money, perché poi in questo ambito qui, lo sapete tutti, che girano un sacco di soldi nell'ambito petrolifero. Questo è un esempio classico. Il famoso Foursquare, che è nato come piattaforma per geolocalizzare le persone e dire mi trovo qui, faccio questa cosa X. Più recensioni facevi, più cose facevi, più è sempre gamification, riuscivi a tenere dei punti. Ecco, qui siamo arrivati, diciamo, a un nuovo bivio, a una cosa molto più interessante, che riguarda il mondo filmico, delle serie TV, che è un mondo gigantesco, dove girano un sacco di soldi. Ritorniamo al nostro esempio classico, appunto, di questo programmatic product placement, che potete immaginare come. State guardando una serie TV a un certo punto, come succede in questa puntata? Lui si sveglia, fa colazione e tu gli dici, scegli Kellogg's piuttosto che un altro prodotto. Uno, l'azienda comincia a capire se quel prodotto piace, quant'è l'awareness, la consapevolezza del marchio a livello globale, perché parliamo di milioni di utenti. Riesce a capire, appunto, le persone, anche in base all'età, alla profilazione, cosa scelgono, perché ovviamente Netflix ti dice come ti chiami, ti piace questo tipo di prodotto, sa le tue serie TV, in base alle serie TV che tu segui ti fa già una profilazione, infatti se lo vedete un pochino su Netflix, Netflix stesso ti suggerisce le serie in base ai tuoi gusti personali. Quindi tutto questo è legato molto anche poi alla scelta del prodotto, ed è ancora più legato alla gamificazione, una volta che magari questi tipi di contenuti vengono fuori e vengono sviluppati ancora di più. Senz'altro. Ed è una strategia che ha radici antiche, come abbiamo detto, quelli che hanno qualche annetto di più si ricorderanno dei libri game che tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta hanno fatto molto furore. Nient'altro si trattava di libri che prevedevano la scelta. Libri a vivio. Quindi se vuoi che succeda questo vai a pagina 140, vuoi che succeda quest'altra cosa vai a pagina 180. Ed è la base di Bandersnatch fondamentalmente. Ma la commissione non ci provare, non ci provare. Non faccio spoiler, vabbè. Però la tradizione di commissione tra contenuti visivi, propriamente detti, quindi tradizionali, come i film, e l'industria videoludica, quindi quella del videogioco, è antica. Quindi abbiamo dei esempi come War Games, che portava il videogioco nel film, poi abbiamo Ralph Spacca Tutto più recentemente, ma quello... Che nome è Ralph Spacca Tutto? Ralph Spacca Tutto fa abbastanza ridere, in effetti. Tra l'altro là c'è Ralph Spacca Internet, ti posso dire. Ecco, ci sta, ci sta. Però, come diceva Nicola, è fondamentale non solo l'azione proprio attiva dell'utente, ma poi la raccolta di dati, la profilazione e soprattutto considerare che c'è una correlazione, incrociare i dati è fondamentale, una correlazione tra un dato, contenuto, fruito e un prodotto. Quindi tu puoi capire, tu, potenziale inserzionista, se quel contenuto multimediale, quella serie, quel film, siano adatti al tuo spot, adatti alla tua comunicazione. Perché se ti rendi conto che nell'anagrafica 18-24, alla quale, cioè, dentro questo cluster, prendere il sotto insieme di persone alle quali piacciono i thriller, se ti rendi conto che il prodotto non funziona in questo cluster, tu non spenderai soldi lì. Quindi per gli inserzionisti è ancora più accattivante la proposta di Netflix. I soldi vengono spesi ancora meglio e ancora più volentieri. Quindi altri soldi che entrano nei casi di Netflix. Certo. Un'altra cosa bellissima che ho scoperto, poi guardando sempre l'analisi di Wesa, è che addirittura, ovviamente, tantissime persone guardano Netflix tramite le piattaforme di gaming, quindi PlayStation, anche tu, benissimo. Addirittura, in quel caso, il joystick che ti permette di scegliere, di fare la decisione, vibra. Quindi addirittura tu sei qualche... Eh, non te lo dico. Mi hai rovinato la sorpresa. Eh, ma me scusa, mi hai rovinato la sorpresa. Non voleva. Comunque vibrerà il joystick, quindi voi saprete che a quel punto dovete fare una decisione. la cosa bellissima poi che ci sta dentro tutto Cialdini, tutta la tecnica delle tecniche di persuasione, eccetera, c'è anche il fattore tempo, cioè pochissimi secondi per scegliere cosa fare. Io l'ho guardato con mia nipote, facciamo... Cosa facciamo? A o B, A o B, vai, vai con la A o B. Poi ovviamente ci sarebbe da parlare per ore e ore su come è stato realizzato Bandersnatch, che è una sorta di metafilm, una metagamification. La 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 la. Cioè, no vabbè, adesso non spoileriamo, però è bello perché è una specie di esercizio di stile, no? Molto alla Keno, non so se hai letto mai Keno, però Keno è un personaggio che fa questo tipo di libri. Ringrazio male l'avrei fatto scoprire Keno. Però, insomma, è molto interessante da questo punto di vista perché ci sono tantissimi esercizi di stile. È un meta-libro, è un meta-film che racconta proprio della gamification stessa. Quindi è molto interessante come esperimento, nonostante non sia una cosa recente. Però come possiamo immaginarlo, per esempio, poi nel marketing? Possiamo immaginare a questo punto che tantissime aziende possono cominciare a produrre loro stesse delle web series, e non è una novità perché è successo più volte. Anzi, su YouTube già 5-10 anni fa esperimenti di questo genere erano stati fatti. Io mi ricordo benissimo, certo con degli espedienti perché non c'era la tecnologia, potevi cliccare, ovviamente rendendo sensibili alcune aree del video di YouTube, potevi scegliere i vari finali. Quindi c'erano più video, c'erano più piani narrativi, come si potrebbe dire in semiotica. Adesso facciamo i poser. Noi che abbiamo studiato. Noi che abbiamo studiato, possiamo dire, piano narrativo canonico, e ovviamente lì potevi scegliere vari finali. Le aziende possono usare questo tipo di strategia per capire appunto il comportamento d'acquisto, per esempio. Certamente. Capire dove posizionare il prodotto, come dicevi tu, il tipo di serie TV, mirare sempre più a un tipo di nicchia per il proprio prodotto, piuttosto che spendere come una cosa ormai che è morta, cioè fare una pubblicità sulla TV generalista che non ti porta a niente. Morto. Secondo me YouTube a questo punto comincerà a fiutare tantissimo questa cosa e introdurrà. Adesso faccio il, come si chiama, Nostradamus. Nostradamus Palumbo dice che sicuramente YouTube introdurrà questo tipo di interazione. Certamente. Perché è una cosa che non è da poco. No, non è da poco e poi sta proprio nell'ordine naturale delle cose. Perché si integra bene con i dati che può incrociare Google. Quindi perché non farlo? È ovvio, Google è in possesso di dati anagrafici e di abitudini. Ah, tra parentesi, quando siete lì, che navigate su Chrome. Sto eccitando Paolo. tranquilli. Lo so, ti capisco. E siete loggati tranquillamente e volete comprare il vostro biglietto aereo. Vi volete guardare anche un filmetto un po' così? Google vi monitora, sa tutto e quei dati li usa a fine commerciali. Quindi se ha una piattaforma tra le mani come YouTube, può targhettizzare ancora meglio il flusso comunicativo, può proporre delle soluzioni ancora più su misura agli inserzionisti, fare un bucchio di soldi su quello che fate voi. Esatto, esatto. Io per chiudere aggiungo che questo tipo di esperienze non sono, come abbiamo detto, nuovissime, anzi addirittura sono presenti anche in ambienti che voi non immaginereste mai, come può essere per esempio il teatro. Parlando del teatro parlo proprio dei videogames, nel senso che ci sono negli Stati Uniti esperienze in cui sono state realizzate dei videogame, quindi tu vai in un teatro come non lo immaginiamo noi il teatro tradizionale, è un teatro però dove tutti gli spettatori hanno un joystick e a un certo punto diciamo la narrazione segue la maggioranza del pubblico, quindi voi tutti potete scegliere per esempio cosa farà il personaggio principale e a quel punto in teatro ci sarà una sorta di videogames digitale, quindi qualcosa tipo Bandersnatch, però nel formato cartone animato o comunque il solito Pixar che conoscete tutti dove i finali sono infiniti sostanzialmente. Questo è un tipo di esperienza e ci sono tipi di esperienza anche nel teatro tradizionale dove appunto le persone che fanno che sono i protagonisti del teatro chiudono il finale in un modo diverso che può essere inaspettato, può essere mille volte diverso. è una cosa che è molto interessante e che secondo me prenderà tantissimo piede, richiede uno sforzo produttivo enorme perché immaginatevi un film che deve avere cinque finali è un delirio. Adesso non lo posso dire però spoilerando un attimino no 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 Bandersnatch rappresenta anche una sorta di maze cioè è un labirinto nel senso che spesso poi tu sei portato a ritornare sui tuoi passi a fare decisioni diverse resto vago resto vago però è un richiamo al labirinto c'è sempre come una qualsiasi tipo di narrazione che ha degli intrecci clamorosi e che ti permette poi di cambiare finale continuamente giusto per fare un cappello finale posso dire che secondo me è un'esperienza bellissima da un punto di vista diciamo cioè è una novità però non è una novità è una cosa interessante ma non è una cosa che mi ha fatto impazzire quindi questo è un giudizio mio personale poi aspettiamo i vostri commenti come dicono i youtuber qui sotto al video fate thumbs up e condividete questo video con i vostri amici sottoscrivete no? com'è che fanno? fai subscribe subscribe condividete il video con i vostri amici siamo fuori tempo massimo come età esatto vuoi chiudere? vuoi dire qualcosa maestro? voglio voglio soltanto sottolineare quanto hai detto tu però facendo presente che questa idea sì non è recente ma le applicazioni sono attualissime quindi magari questo esperimento mi attengo al parere che ho sentito da molte persone non sarà il più originale del mondo non sarà la prima volta che lo vediamo ma verrà riusato verrà riutilizzato forse non su Netflix forse non legato ancora a serie tv o film ma verrà riutilizzato vedrete il nostro Paolo Fox da oggi in poi sarai Paolo Fox quindi questo è la sua prediction ah quante battute si potrebbero fare ma non ne faremo ok per chiudere questo è anche un podcast quindi potete iscrivere anche su iTunes si chiama storie digitali non lo sapeva Paolo che si chiamasse così il nostro podcast l'ho scoperto 20 minuti fa su iTunes su Spreaker e anche su Spotify in ogni dove mentre ascoltate la vostra musica truzza in palestra potete inserire questo podcast che dura appena 22 minuti su datevi un tono ok a questo punto noi vi salutiamo la prossima puntata come al solito è diciamo affidata al fato e all'intuito quotidiano di noi poveri mortali che viviamo il mondo digitale così come viene un grande salutone e la prossima e la prossima